SuperTicket è stato introdotto all'inizio degli anni 10, 2010 e 2011 per la precisione e abbiamo tuttora un sistema a progressione, a scaglioni di reddito che va su 4 scaglioni, fino a 36.000 euro non si pagava nulla, da 36 a 70 e da 70 a 100 c'erano degli scaglioni progressivi anche di importi che si pagavano sulla ricetta e sulla prestazione, sopra i 100 si pagava tutto il SuperTicket. Con il provvedimento di oggi noi sostanzialmente cancelliamo anche per la seconda e la terza fascia tutta la montata del SuperTicket, un provvedimento che vale così 22 milioni di euro circa tra farmaci e attività specialistica. Chi continua a pagare? Quelli che hanno un reddito sopra i 100.000 euro. e sono persone che ci danno un introito di SuperTicket di circa 8 milioni. Con quegli 8 milioni che lasciamo a pagare finanziamo un altro provvedimento che riguarda il ticket normale, il ticket base, quello che paga ognuno di noi quando prenota una visita. Allora per le prime visite noi cancelliamo i 23 euro che si pagano oggi a tutti i componenti dei nuclei familiari che hanno almeno due figli. Dal primo di gennaio del 2019 le visite specialistiche per tutti e quattro o cinque o sei componenti delle famiglie le prime visite non si pagheranno più. Teniamo conto in ogni caso che oggi stiamo parlando di circa 1.500.000 persone che beneficeranno di questo provvedimento per quanto riguarda il ticket e di circa 800.000 persone per quanto riguarda il SuperTicket. Sono davvero orgoglioso che ci possiamo permettere questa misura e questa manovra che ripeto è la garanzia di avere un sistema sanitario di qualità che però non dimentica laddove è possibile di andare a restituire qualcosa ai cittadini dell'Emilia-Romagna.